buongiorno a tutti è molto importante sostenere melting pot per la sua esperienza per l'assistenza che dai bisognosi oltre ad avere un'esperienza di 25 anni di impegno serio e totale chi si occupa di diritti conosce chi sono in questo mondo oggi dove governi tantissimi non aiutano più è importante sostenere questa nostra realtà che è veramente a disposizione delle persone quindi sosteniamolo facciamo che questa realtà possa continuare il suo lavoro d'assistenza perché oggi viviamo in un mondo con tantissime difficoltà e loro sono sempre pronti a dare una mano quindi è molto importante che questa esperienza vada avanti grazie a melting pot e grazie a tutto il suo staff